Assessore Via, lei oltre che all'istruzione è assessore alla cultura e parliamo un po' della biblioteca. Ci sono delle belle novità? Sì, diciamo che con i fondi ristori che abbiamo ricevuto dopo il primo lockdown della primavera abbiamo potuto acquistare un cospicuo numero di libri e rimpinguare qui così la nostra biblioteca di circa 500 volumi. È stato questo un progetto che ci ha consentito, intanto che è stato concepito per dare un po' di ossigeno alle librerie locali e gli acquisti sono stati fatti facendo anche una ricerca delle librerie attive sul territorio e nello stesso tempo ci ha consentito di arricchire il cospicuo patrimonio della nostra biblioteca. Avete fatto una scelta diversa, insomma settori diversi, libri di autori locali o libri alla portata nazionale e internazionale? No, ci sono titoli per tutti i gusti, diciamo. Abbiamo dato una particolare attenzione a titoli che riguardano Pitagora in modo particolare perché Crotone si connota come città di Pitagora e poi dalla fotografia ai fumetti, ai saggi, alla saggistica, c'è veramente di tutto, veramente una ricca collezione che noi mettiamo a disposizione di chiunque. La biblioteca in questo periodo, tra l'altro, continua ad essere attiva iscrivendosi online, quindi basta semplicemente iscriversi, poi andare in biblioteca e ritirare i testi che si vuole consultare. Oltretutto la tariffa che è di 10 euro però è stata completamente sospesa a causa del Covid, quindi l'iscrizione è anche gratuita. Anche perché dobbiamo dire che la lettura è l'arma vincente per superare depressione e situazioni di disagio per il Covid. Ma questo è un dato, cioè diversamente dagli altri prodotti culturali, chi ha avuto veramente un aumento del 9% è stato proprio il consumo di libri durante questa pandemia.